Musica Passo adesso la parola per la chiusura ad Alessandra Tibaldi Rapidissima perché ho imparato molto a mie spese che poi c'è un'attenzione anche diversa per le donne e per gli uomini rispetto agli orari e mi pare che abbiamo disatteso le esigenze di genere per le donne ma anche per gli uomini, insomma alle 8 e mezza Allora io non ho la pretesa di fare conclusioni anche perché Maurizio Zipponi all'inizio che è responsabile nazionale lavoro e welfare dell'Italia dei Valori ha delineato bene quelli che sono i punti di riferimento che noi ci siamo posti rispetto a un programma che Lidia diceva adesso di aver concluso molto sbrigativamente ma che io osservavo con l'avvocato Cirillo che è un programma, altro che programma quinquennale diciamo di qualche decennio fa, è un programma ventennale forse trentennale di interventi e invece penso che molto bene noi dobbiamo provare diciamo a partire da uno schema che mi sembra assolutamente corretto che tiene insieme l'implementazione quindi la moltiplicazione anche delle informazioni, la circolazione di queste esperienze da una parte quindi col protagonismo dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali, dei rappresentanti sindacali che noi abbiamo qua e dentro una crescita e consapevolezza diffusa che dobbiamo far diventare patrimonio comune di un elemento su tutti io non sto a ripetere le cose che sono state dette sull'idea del low cost e quindi di un mercato parallelo a basso costo rispetto al combinato disposto negativo tra domanda povera e offerta povera di lavoro che questo meccanismo crea però penso che al di sopra di tutto questi meccanismi e anche il mancato governo di questi processi su cui ci si è rassegnati un po' tutti, diciamocelo, i sindacati, la politica, a gestire, non a governare ma a gestire le ricadute di questi processi abbia prodotto in realtà una crisi economica spaventosa un livello anche di pressappochismo, di superficialità e di mancanza di competitività da parte delle imprese la ministra Germini invece si applica, ti voglio correggere su questo perché continua ad applicarsi essendo io una precaria della scuola diciamo così, a devastare la scuola e anche oggi Cameron che è il primo ministro inglese che io posso non condividere per tante cose taglia drammaticamente ristruttura il sistema del welfare ma non tocca la scuola non tocca la sanità e non tocca la ricerca, certo tocca tutto il resto, secondo me sarà peggio della Thatcher davvero però insomma almeno anche da quel punto di vista c'è un'attenzione rispetto al fatto che la scuola e la ricerca sono politiche anticicliche e non servono solo a chi va a scuola, ai ricercatori, ai docenti, agli alunni mentre invece faccio notare che tra le altre cose del DDL lavoro si introduce il lavoro minorile perché si abbassa l'obbligo scolastico consentendo anche l'assolvimento dell'obbligo dal quindicesimo al sedicesimo anno in azienda attraverso il contratto di apprendistato che è un contratto a causa mista come sappiamo il cui contenuto formativo è un'altra di quelle partite su cui gravano fitte e nubi perché di contenuto sicuramente c'è il grande interesse sulle risorse della formazione sulla qualità della formazione francamente io che un po' mi sono occupata di queste cose insomma nei cinque anni precedenti a questo ne ho visto poco allora che cosa è pericoloso e negativo? il fatto che noi non siamo oggi in questo paese dentro la consapevolezza diffusa che si esce dalla crisi puntando appunto sull'innovazione e sulla qualità non sulla rincorsa a basso costo del lavoro oggi il neoministro Romani dunque tre giorni fa si è appassionato alla puntata di report che francamente non era tra le sue priorità cioè capire se fosse una puntata scandalosa o meno essendo che ha sul suo tavolo 170 faldoni impolverati tra cui Euteli e tutti i vostri faldoni e forse diciamo l'osservazione sul carattere obrobrioso odioso della puntata della Gabanelli sulle note vicende che sicuramente non riguardano noi qui quindi le 20 case, le proprietà eccetera eccetera nei paradisi fiscali non erano a sua priorità oggi vedo che la ricetta che propone penso che abbia affermato il decreto sia nuovamente quella degli incentivi rispetto a una serie di cose che si possono acquistare ora premesso che siamo tutti felici degli incentivi può servire ma davvero noi pensiamo che rispetto al crollo della produzione perché i titoli volano in borsa, quelli di Fiat e sono schizzati alle stelle dopo la notizia dell'agnuco con tutte le cose che Lidia e l'avvocato Cirillo e voi descrivevate molto bene ma davvero pensiamo che noi usciamo da una crisi di sistema di settori industriali esplosi e maturi e di fronte alla necessità di riconversione di riqualificazione noi ce ne usciamo con gli incentivi per fare cosa? Per comprare la quarta macchina? Io francamente questa cosa mi sembra davvero che denunci un respiro non strategico cioè la mancanza di una visione generale e la mancanza di una visione proprio sulla politica industriale perché non è vero che i tavoli che io ho frequentato insieme a voi per altre cose i tavoli del Ministero dello Sviluppo Economico non arrivano ai piani industriali arrivano diciamo delle cartelle di 100 pagine 150 che si chiamano piani industriali ma in realtà non sono nulla cioè sono piani finanziari quando va bene perché a volte neanche è facile farli adesso sempre più spudorati perché poi la sciatteria diciamo fa accadere verso il basso anche delle operazioni che in realtà sono di semplice mistificazione di quello che non è e si arriva oltretutto a questa continua deregolamentazione e quindi anche sviluppo e indebolimento delle tutele su cui noi oggi abbiamo oggettivamente le armi spuntate atteso che e vado a chiudere io sono abituata a vedere a impostare un progetto ma penso che quella immagine dei due euro che Stefano tirava fuori dalla tasca che rappresenta la condizione delle tante centinaia di lavoratori che oggi pomeriggio ci hanno seguito in questa iniziativa per la quale ringrazio moltissimo e penso a nome di tutti Lidia per la competenza e la passione che ha no, è diciamo è assolutamente come dire penso patrimonio di tutti che ha dedicato anche nel ricostruire nel mettere insieme i saperi nel cercare di pazientemente di creare una rete e tenere viva l'attenzione e di fare in modo che tutto questo diventasse patrimonio comune quindi a disposizione di tutti quei due euro sono proprio la rappresentazione plastica della svalorizzazione del lavoro e dei diritti del lavoro di fronte alla quale noi siamo abbiamo un DDL lavoro che dice una serie di cose alcune le abbiamo dette per esempio i risvolti relativi alla sicurezza sono assolutamente drammatici atteso che dentro qualche codicillo c'è scritto che si abolisce tu cur il registro degli infortuni che deve essere in mano all'imprenditore e adesso diventa diciamo un optional atteso che rispetto a tutta l'operazione certo limitata che si era fatta qualche anno fa di contrasto al lavoro grigio all'area del lavoro sommerso del lavoro nero la discussione sugli indici di congruità che conteranno o meno nel momento in cui si stende un capitolato d'appalto cioè la verifica di quanto lavoro serve per produrre quel bene immediatamente la prima cosa che questo governo ha fatto è stato azzerare gli indici di congruità voglio ricordare da donna ma vale per tutti perché ho una vecchia fissa diciamo che ho il fatto di aver abolito la legge 188 sulla dimissione in bianco che oggi si ripresenterà drammaticamente soprattutto quando a proposito di arbitrato un lavoratore che entro i 30 giorni dalla conferma del proprio contratto di lavoro dovrà scegliere se ricorrere o meno al giudice o piuttosto non immaginare questa meravigliosa soluzione di una condizione di equità in mano da mettere in mano all'arbitrato come se io oppure ognuno di voi fosse in una condizione paritetica di fronte al vostro datore di lavoro più o meno presunto perché di questo si tratta più o meno intelligente più o meno insomma capace di fare l'imprenditore piuttosto che altro come è successo nel caso di Eutelia allora rispetto a tutto questo noi dobbiamo sapere che siamo indeboliti che questa è una fase difficile perché non è vero che questo governo non fa questo è il governo del non fare sulle politiche industriali perché praticamente proprio le ha rimosse e derubricate ma rispetto invece al diritto del lavoro al processo del lavoro al contratto collettivo nazionale che parliamoci chiaro dopo Pomigliano non è che possiamo pensare che non sia successo niente cioè noi siamo oggi in un'operazione di resistenza molto più difficile e quindi stai bene a spiegare e a capire qual è la strumentazione con la quale ricostruire quella catena di responsabilità che finalmente mette in condizione colui il quale l'azienda che cede diciamo così la controllante di avere e mantenere le sue responsabilità sui lavoratori che vanno a finire nella controllata magari al 100% con operazioni e condizioni di monocommittenza per cui poi si scopre che fanno esattamente la stessa cosa che facevano prima salvo costare di meno e salvo tu avevi usato il termine giusto smaltire mano d'opera per poter avere meno costi e quindi potersi magari collocare meglio in borsa c'è da dire anche che rispetto ad alcune questioni noi parlavamo prima diciamo indico l'avvocato perché è prossimo e Lidia parlava ma insomma penso che valga per tutti ci dicevamo che anche rispetto alle partite dell'appalto all'introduzione di clausole o di principi che possano o garantire la clausola di salvaguardia alcuni contratti ce l'hanno ma altri no le pulizie ce l'hanno i metalmeccanici no rispetto al cambio appalto oppure addirittura di pensare di introdurre la norma diciamo che va a intervenire sul 2112 quindi sul codice abbiamo a che fare anche con delle difficoltà che attengono a principi oramai consolidati per esempio in sede europea e non soltanto che è quello il diritto alla libera concorrenza per esempio io mi sono trovata ma penso che valga per tutti insomma è difficile farlo ma ognuno di noi credo che sia in qualche modo incappato nella situazione di dover fare un capitolato d'appalto insomma un bando ecco una gara allora lì mettere nero su bianco che tu devi riassumere i lavoratori in caso di cambio appalto e di lavoratori che vanno in capo ad un'altra società è un po' difficile perché tu lei tu lei insomma mi correggerai ecco se sbaglio immediatamente ti si presenta magari due o tre pareri diversi di natura giuridica io non sono un avvocato ma siccome vengo dalla scuola le cose che non so le imparo e le vado a chiedere a chissà insomma cinque interpellati due mi hanno detto che si poteva fare tre che non si poteva fare uno che era una cosa dubbia perché comunque c'è il diritto alla libera concorrenza da parte dell'impresa allora questo per dire che noi dobbiamo capire che c'è una difficoltà complessiva ma che oggi proprio oggi ci sono le condizioni per fare in modo che queste difficoltà di cui dobbiamo essere più consapevoli che in passato ci mettano in condizione di scrivere di andare oltre quindi di esplorare con molta lucidità tutto il progetto politico contro le esternalizzazioni che Lydia ha illustrato benissimo e che ha anche esemplificato nello schema perché dico con lucidità e chiudo davvero perché io credo che per passare per azzerare quella visto che hanno azzerato tutto davvero sul terreno delle tutele che insomma non siamo in una condizione decisamente di avanzamento ma semmai appunto di quella resistenza di cui parlavo prima per passare da quella immagine dei 2 euro a cui si è ridotto il valore di 2.000 lavoratori noi abbiamo la necessità assoluta di portare a casa dei risultati cioè di capire lucidamente dentro uno schema che noi teniamo presente perché quello è il nostro orizzonte la stella polare quindi la strategia articolata che tiene insieme l'informazione l'operazione politica l'azione legislativa la mobilitazione sociale la moltiplicazione di saperi però lì dentro capire subito cosa possiamo portare a casa cominciamo dai verbalizzatori del ministero di grazia e giustizia io vi avviso che non c'è mai fine al peggio e sta accadendo che ispirati dalle migliori intenzioni molte province per esempio stanno facendo accordi con i quali danno l'integrazione salariale quindi reddituale ai lavoratori in cassa integrazione per andare all'interno dei tribunali delle cancellerie allora voi capite che di per sé la cosa è sacrosanta vale anche per gli ammortizzatori sociali benissimo si fanno accordi perché attraverso quello c'è un'integrazione sul reddito ma che succede quando quei lavoratori inseriti all'interno delle prefetture o magari nelle cancellerie vanno come dire ad essere in conflitto e magari in competizione con i lavori esternalizzati che a loro volta sono lì per fare dei lavori che sono compito del ministero di grazia e giustizia perché il decreto flussi si fa sempre perché bisogna regolarizzare gli stranieri e perché quella è un'attività che rientra nel cosiddetto core business del ministero di grazia e giustizia di nessun altro fermo restando che poi dobbiamo lavorare per aumentare l'indennità di cassa integrazione da 800 a 1000 dobbiamo lavorare per reinternalizzare chi si può reinternalizzare sapendo che è complicato perché nel pubblico c'è il concorso eppure si può fare eppure si può fare e poi magari lo diremo anche dentro insomma qualche piccola esperienza c'è che ci può dare la direzione di marcia e però insomma con molta concretezza dicendoci le cose come stanno e provando dentro un ragionamento molto disteso di grande chiarezza di grande serietà anche degli impegni che prendiamo uno con l'altro che un partito una forza politica un'organizzazione io penso della rappresentanza sociale un sindacato in questo caso siamo la casa di un partito quindi un'organizzazione politica deve dire chiaramente fin qua possiamo arrivare ci diamo l'impegno di 20 obiettivi uno lo portiamo a casa a fine anno su tre lavoriamo entro il giugno prossimo e vediamo insomma se ci riusciamo il resto attiene alla nostra visione generale con le difficoltà che ci sono però anche io penso con la straordinaria ricchezza del patrimonio che qui oggi noi abbiamo anche portato sulla rete e quindi trasmesso a centinaia di persone di uomini di donne di lavoratori e lavoratrici che ci stanno seguendo e sapendo io lo voglio dire con orgoglio che faccio mio ma in realtà appartiene a chi ha governato per competenza diciamo perché è la responsabilità in questo settore che davvero l'Italia dei valori vanta da questo punto di vista anche a partire dalla serata di stasera dal grande grandissimo che voi e Lidia su questo tema avete messo insieme una ricchezza davvero straordinaria di materiali di esperienze e anche io dico una modalità nuova quella quale provare davvero non a parlare di nuova politica perché insomma siamo tutti nuovi e tutti vecchi a modo nostro poi a far vedere che si può fare appunto partendo da questo dalla condivisione dalla serietà anche delle argomentazioni e dalla possibilità finalmente di cominciare a riportare a casa cioè in capo a chi li merita dei risultati magari piccoli però dentro un quadro condiviso vuoi niente chiudiamo saluto tutti vi ringrazio e cioè ci pensavo io veramente tanti anni fa a raggiungere questo progetto ho detto non è possibile che riesco a farlo diventare un problema sociale cioè la consapevolezza che esiste un problema sociale e politico eppure lavorandoci con delle persone che io qua comunque sono molto amica perché poi comunque per forza le vite si incrociano e se lui ha un problema o lui ha un problema diventa un mio problema perché è allucinante vedere come si possa arrivare al punto che dei padri di famiglia debbano comunque vivere con 800 euro al mese e dare conto ai propri figli che magari vanno all'università voi avete una grande dignità e siete i nostri eroi secondo me quindi buonasera a tutti a tutti